Allora siamo qua per i piccoli molto stretti di San Felipe andando verso il ristorante La locanda del Roche che sta alla fine di questi piccoli qua quasi sembra un paesaggio greco mi ricorda qualcosa da vedere c'è ma non troppo e niente alla fine di questa passeggiata in mezzo ai piccoli troveremo la famosa locanda del Roche con una bella vista mozzafiato e un ampio posto dove poter mangiare senza problemi e incodere un ultimo panorama Grazie a tutti Siamo arrivati qui alla locanda del Roche che praticamente sta nella punta estrema del piccolo paesino possiamo chiamarlo di San Felipe tipico weblito peschero di quattro anime e qui in questo punto c'è un ristorante la locanda del Roche dove si può gustare del buon cibo Italo-Canario perché la costruzione è familiare ed è mista Italo-Canario perché la scuola è un' descrizione qui sta medita lo stesso